L'ex convento di San Francesco pieno di giovani per la cerimonia di premiazione della 43esima edizione di Artigianato e Scuola. Una tradizione lucchese che si rinnova, consolidata e particolarmente sentita, un momento attesissimo dai ragazzi ma anche dagli insegnanti e dalle famiglie perché rappresenta il riconoscimento di un lavoro basato principalmente sulla creatività degli studenti. Tra le tracce più gettonate, la sfida rappresentata dall'avvento dell'intelligenza artificiale per il settore. Si chiedeva in particolar modo se un'attività possa trarre vantaggio da questa nuova tecnologia o debba temerne l'impiego. I ragazzi hanno così elaborato uno scritto e lavorato con la fantasia, immaginando un artigiano che si avvale dell'intelligenza artificiale. I riconoscimenti sono andati alle classi che hanno presentato creazioni originali, elaborati e lavori fotografici. Opere che sono state esposte nel chiostro di San Francesco. Durante l'evento il direttore della Confartigianato di Lucca, Roberto Favilla, ha voluto come sempre lanciare un messaggio alle famiglie e alle scuole, quello di non scoraggiare i giovani di talento che sognano di diventare artigiani. Quest'anno il concorso è stato realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e questo è il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Fondazione Banca del Monte e di Artigian Credito con il sostegno dell'Ufficio Scolastico Territoriale. Credo che l'artigianato rappresenti un'opportunità di lavoro per le future generazioni, per cui invito veramente i genitori e gli insegnanti a considerare tra le varie possibilità di attività che possono svolgere domani questi ragazzi quando entreranno nel mondo del lavoro, a vedere anche la possibilità di fare gli artigiani e dai manufatti che sono stati fatti effettivamente si vede che c'è creatività, fantasia e anche una certa manualità per cui sono veramente degli artigiani in erba.